O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde. Sotto il velame detti versi strani. Con queste parole, Inferno, 9, 61-63, Dante indica in modo molto esplicito che nella sua opera vi è un senso nascosto, propriamente dottrinale, di cui il senso esteriore e apparente è soltanto un velo, e che deve essere ricercato da coloro i quali sono capaci di penetrarlo. Altrove, il poeta va più lontano ancora, poiché dichiara che tutte le scritture, e non soltanto quelle sacre, si possono intendere ed è buonsi esponere massimamente per quattro sensi. Il convito è evidente, d'altronde, che questi diversi significati non possono in nessun caso distruggersi o dopporsi, ma debbono invece completarsi ed armonizzarsi come le parti di uno stesso tutto. Come gli elementi costitutivi di una sintesi unica. Così, che la Divina Commedia, nel suo insieme, possa interpretarsi in più sensi, è una cosa che non può essere messa in dubbio. Poiché abbiamo a tal riguardo proprio la testimonianza del suo autore. Sicuramente meglio qualificato di ogni altro per informarci delle sue intenzioni. La difficoltà comincia solamente quando si tratta di determinare questi diversi significati. Soprattutto i più elevati o i più profondi. E anche a tal riguardo cominciano naturalmente le divergenze di vedute fra i commentatori. Questi si trovano generalmente d'accordo nel riconoscere. Sotto il senso letterale del racconto poetico. Un senso filosofico. O piuttosto filosofico teologico. Ed anche un senso politico e sociale. Ma, con il senso letterale stesso, non si arriva così che a tre sensi. E Dante ci avverte di cercarne quattro. Quale è dunque il quarto? Per noi, non può essere che un senso propriamente iniziatico, metafisico nella sua essenza, e dal quale si riattaccano molteplici dati, i quali senza essere tutti d'ordine puramente metafisico, presentano un carattere ugualmente esoterico. È precisamente in ragione di questo carattere che un tal senso profondo è completamente sfuggito alla maggior parte dei commentatori. E tuttavia, se viene ignorato o misconosciuto, gli altri sensi stessi non possono essere afferrati che parzialmente. Poiché esso è come il loro principio, nel quale la loro molteplicità si coordina e si unifica. Coloro stessi che hanno intravisto questo lato esoterico dell'opera di Dante si sono molto ingannati quanto alla sua vera natura. Dato che, il più delle volte, non avevano la reale comprensione di queste cose. E dato che la loro interpretazione risentiva di pregiudizi che era loro impossibile evitare. Così Rossetti e Haru, che furono fra i primi a segnalare l'esistenza di questo esoterismo, credettero poter concludere all'eresia, di Dante, senza rendersi conto che così mischiavano delle considerazioni riferenti sia domini del tutto differenti. La verità è che, pur sapendo certe cose, ve ne sono molte altre che essi ignoravano e noi cercheremo di indicarle. Senza avere affatto la pretesa di dare un'esposizione completa di un soggetto che sembra veramente inesauribile.